Che sì, portato sull'esterno dal suo avversario, cross morbido, Bonaventura, Brignoli, ancora Bonaventura, trova un pertugio e al 38esimo il Milan è avanti. Non segnava da gennaio scorso, è il primo gol in questa Serie A Team per Giacomo Bonaventura. Il Milan trova in un'azione molto confusa il gol che rompe l'equilibrio. Decisivo in qualche modo il disturbo di Kalinic dalle parti di Brignoli, perché il primo colpo di testa di Bonaventura sembra essere piuttosto innocuo. Poi la porta rimane vuota, si viene a creare uno spazio sul primo palo, non interviene Letizia. Lignoli si è lamentato della pressione da parte di Kalinic nei suoi confronti.